Musica Enzo, capitano della crime, stasera è andata bene, tu hai messo la tua esperienza, giochi dietro? Era un po' che non giocavo perché era un po' più infortunio, però mi sono subito affiattato con i miei compagni che hanno un bel gioco, anche un po' se a volte ci mancano alcuni giocatori però riusciamo a sopperire la mancanza con ogni innesto di altri giocatori Senti, la prima volta che vi vedo, però anche sentire gli avversari, loro dicevano loro sono più squadra di noi, è tanto che giocate insieme perché siete proprio che la palla gira, comunque provate a giocare Sì, questo è sempre il nostro intento, è quello di giocare la palla perché non abbiamo un individuo singolo e basta, è sempre anche nel campionato che facciamo a 11, giochiamo sempre di squadra e cerchiamo i compagni di 1-2 per andare a concludere in porta Comunque c'è l'11 vostro davanti che è il mancino che a parte il rigore che ha sbetto stasera però è imprendibile Veramente, velocissimo, agile, bravo a driblare e bravo in tutto diciamo Senti, concludi dicendo sta finendo questo invernale, adesso l'obiettivo cos'è per il primaverile, vi riscrivete, avete già degli obiettivi? Sì, sì, noi cerchiamo di finire bene le ultime 2-3 pratiche che ci mancano, per sperare forse ancora la matematica non ci condanna però siamo anche per continuare con il primaverile cercando di fare bene, ancora meglio di quello che abbiamo fatto finora Ti faccio complimenti, ti saluto, alla prossima Grazie, ciao